Sindaco, alle finali provinciali l'aveva promesso, se sarò ancora primo cittadino l'anno prossimo alle finali nazionali amatori le porterò a Rosà. È davvero così? Lo confermo, è un aspetto importante che voglio portare a Rosà, soprattutto un aspetto sportivo ma anche sociale, perché ho visto quella sera, è un sociale quello di vivere assieme ai ragazzi, delle serate assieme ma soprattutto di grande sport, di gente che si alena quando ha tempo ma che soprattutto ha voglia di giocare, stare assieme e divertirsi. Per cui a Rosà, lo confermo, avrà disponibilità degli impianti sportivi per questa finale. Tra l'altro avete una squadra tra vettore che quest'anno ha vinto il titolo provinciale e la speranza è di vedere le finali nazionali l'anno prossimo. Non è solo una squadra, è una squadra di amici perché io vivo con loro anche delle serate assieme, per cui ho ancora più stimolo a dare la disponibilità di questi campi, di queste strutture meravigliose che abbiamo a Rosà per questo evento.